In questa breve guida vedremo come installare un plugin all'interno di After Effects. Possiamo infatti utilizzare tantissime funzionalità all'interno del programma, ma se vogliamo possiamo estendere le sue capacità, i suoi strumenti, le sue funzionalità utilizzando una serie di plugin che possiamo aggiungere al programma. Per esempio uno di questi plugin già inseriti all'interno di After Effects è il plugin che ci permette di lavorare in 3D con Cinema 4D. Ora attenzione perché possiamo installare sia dei preset, che sono degli effetti e delle funzionalità predefinite, quindi presetati, per esempio qui abbiamo Boris e abbiamo altri predefiniti più o meno classici del programma. E poi possiamo anche installare dei veri e propri plugin, quindi proprio ulteriori strumenti o set di strumenti per ampliare le potenzialità del programma. Per fare questo è molto semplice, basta scaricare e inserire nella giusta cartella nel file di installazione il file che andiamo a scaricare, sia che sia un plugin o che sia un preset, dove troviamo la cartella di installazione del programma. Solitamente il percorso è all'interno del vostro PC, all'interno del disco principale e poi all'interno di programmi o program files Adobe After Effects 2024. Solitamente la cartella viene visualizzata con un colore particolare, in questo caso il viola, e quindi noi sappiamo che possiamo entrare all'interno di questa e trovare i vari file del programma. Se andiamo su support files, infatti troviamo varie cartelle. Se vogliamo, per esempio, aggiungere nuovi plugin, tutto quello che dovremmo fare è aggiungerli all'interno della cartella plugins. Per esempio qui già abbiamo cinemware by Maxon e altri, come vedete, effetti, estensioni e via dicendo. Questi che vedete sono appunto i file già che troviamo all'interno con il formato appunto dell'estensione, in questo caso AX Camera Tracker o degli effetti appunto, a seconda se stiamo utilizzando un'estensione o un effetto. Se invece vogliamo inserirli all'interno dei presetati, quindi a volte quando inseriamo dei plugin avranno all'interno anche appunto degli effetti, nei presetati invece possiamo andare nella cartella presets. E quindi qua è dove metteremo, se vogliamo, o all'interno di un'altra cartella o al di fuori, tutti quanti i preset, gli effetti presetati, quindi che scaricheremo da internet. In questo caso vedete il file è ffx. Quindi a seconda se scarichiamo un plugin, un effetto, un'estensione, andremo a posizionarlo nella cartella di riferimento. Se vogliamo possiamo ottenere ulteriori informazioni all'interno del manuale di Adobe, online anche, e poi semplicemente cercheremo per esempio After Effects plugins, oppure After Effects presets. Come vedrete ci saranno una serie di siti che metteranno a disposizione informazioni, ma anche direttamente i plugin, che potremo scaricare alcuni di questi a pagamento o altri completamente in modo gratuito. In questo caso ho trovato un paio di siti, come per esempio videocopilot.net e questo in particolare chiamato Displacer, dove possiamo scaricare il plugin. In questo caso vedete trovo il pulsantino download free, quindi clicco e appunto posso stabilire un prezzo, ma in questo caso io lo utilizzo solamente per prova, ma se volete potete diciamo in qualche modo donare all'autore. E qui semplicemente inserirete il vostro indirizzo mail e poi cliccherete su ricevi. Quindi adesso sono abilitato al download e lo vado a scaricare all'interno della cartella del corso di After Effects. Se siete interessati ad After Effects, infatti troverete l'intero corso all'interno del canale e anche in Cinema 4D altri programmi di montaggio di effetti video e di 3D. Quindi salvo la cartella compressa, vado ad aprire all'interno della cartella compressa, vedete che trovo una versione Mac e una versione Windows, ovviamente nel mio caso troverò il file all'interno della cartella Windows e poi semplicemente lo vado a estrarre, o estraggo direttamente tutta quanta la cartella e poi posso copiarlo e incollarlo all'interno della cartella di After Effects. In questo caso, essendo un plugin all'interno della cartella plugin, fornisco le autorizzazioni. A questo punto se ho già aperto After Effects devo chiuderlo e riaprirlo. Riapro After Effects e come vedete all'interno di effetti predefiniti, se cerco, in questo caso il plugin X è chiamato Displacer, lo trovo appunto all'interno della cartella e posso applicarlo, ovviamente come faccio con tutti gli altri effetti. Posso trovarlo anche qui su Effetto Plugin Everything Displacer Pro. Quindi ci fermiamo qui per questa breve guida, se vi è piaciuta iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati anche su altre guide, se volete ringraziarci potete farlo con un abbonamento, potete andare a vedere anche altri corsi, altre guide e altre lezioni dedicate al mondo di After Effects, Cinema 4D e altri programmi di video e di 3D all'interno del programma. Grazie e ci vediamo nella prossima guida.